yeee che partitissima che è questa della Roma Roma della Roma che partitone serale di domenica sera che partitone andrà a fare in saghi contro Juric l'altro giorno ho detto Jovic ma è la Juric con la Ju di Juventus ma porca di quella miseria non è giusto una bella Inter da Champions i suoi bei quattro gol allo Stella Rosa non gli ruba nessuno però stavo andando a guardare e a spiegare cosa aveva fatto la Roma in Conference Lega in Conference Lega aveva fatto Hambravazzi Ticocco ha perso con Endor Borg non ci posso credere eppure l'abbiamo anche fatta nella nostra nella nostra canale un po di saliva un po arrugginita nonostante tutto una bella Lazio che aveva vinto anche 4 a 1 a Nizza ma questo non c'entra e l'abbiamo detto un Inter che ha vinto 4 a 0 cosa gli ha fatto un 4 a 0 eh 4 a 0 era o 3 a 0 4 a 0 la stella allora in classifica comunque non si mettono mica male perché ragazzi se è impossibile che l'Empoli batte il Napoli ma a prescindere da questo il Napoli 3 punti allora il Napoli a 16 questa è una bella partita di oggi eh Roma Inter è una bella partita anche per la classifica Napoli 19 se dovesse vincere ad Empoli l'Inter si piazza se è una bella partita è anche un bel totos commesse mi nasce lo 0 a 0 ho paura ho dei dubbi una Roma a 10 che potrebbe salire a 13 a un punto dall'Inter che ne ha 14 in questo momento di quando incomincierebbe la partita ma ma i Blue Makers cosa vanno a dire cosa vanno a chiacchierare cosa vanno a scovare io sono diventato quasi un Blue Makers perché vado a fare il totos commesse il totos commesse il totos commesse di questa partita è top è top non so cosa mettere aiutatemi tanti commenti qua sotto tantissimi like per questa reazione di Roma Milan tanti iscritti e attivate la campanellina su tutte perché sennò non esce niente niente da questo covo niente non respiriamo non riusciamo a respirare Roma Inter di domenica sera giusto? ti è fregato domenica sera? no non è che ero fregato perché l'ho detta a secondo di come si è mossa la mia classifica in questo momento ma se andiamo a vedere andiamo a analizzare qua sto ancora un po' di più sarà una partita da urlo ma ve lo voglio dire non so cosa mettere ragazzi ma non perché non so cosa mettere è spaventoso ma andiamo a sentire cosa ci dicono FIFA cosa mi consiglia FIFA in questo momento è straordinario è difficile per questa partita che in questo momento della giornata fondamentale più forte in Lazio quella di oggi si prospetta una partita piena di emozioni ma è sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina di commento io qua non so cosa mettere giù io qua non so più cosa mettere giù visto che loro comunque uno entreranno in campo con e io qua ve la dico veloce costante tutto metà metà è lì sopra Sbilla, Mancini, Ndka Ermoso, Celic, Coné, Cristante Angelino, Dybala, Pellegrini e Dobbit Sommer, Pavard, Acervi, Bastone, Darbian, Fratesi Kalanoghi, Niki Italian, Di Marco, Turam e Lautaro sì ma loro hanno la due campioni l'Inter ha due campioni là davanti gli spacca rete li chiamerò gli spacca rete ma se andiamo a analizzarla bene abbiamo Mancini, Ndka e Ndka Ermoso in difesa da questa parte qua abbiamo Pavard, Acervi, Bastone loro giocano a tre sono sicuro ma questo è lo schieramento iniziale Iurici giocherà 4 farà un 4-3-3 sicuramente unito come la vedete nella grado se chiedono la loro velocità o per cercare il fondo è un 4-3-3 due esterni con gli spazi grandi dalla punta centrale un di bala un po' più acceso un chissà che capisci un Inter con un 3-5-1 sono scelte dell'Inter per questa sfida sono per tre pali dietro giocano Alessandro Bastoni con la Cerbi si rischi si rischi si rischi si rischi si rischi contro l'Atalanta ragazzi no 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 si è visto contro l'Atalanta si è visto sia con l'Atalanta sia che con l'Inter e con il Torino chiedo scusa si parte sono in buona forma sono per andare a vincere come la mia reazione in realtà per dire intanto scommesso vincere l'anno lo scudetto ancora quest'anno c'è il link nonostante tutto quel 20 sulla maglia quella seconda stellina sulla maglia 20 sarebbero i tipi che hanno fatto la seconda stellina sulla maglia vorrebbero andare a fare anche la terza fra 10 anni se ce la fanno non come la Juve per andare a capire la quarta stellina comunque anche la Juve c'ha la quarta stellina sul petto secondo me come a prescindere tutto e ferma l'azione stiamo parlando di di Roma e vai sulla Juventus e questa la situazione di Roma Juventus grande tempestività di questo intervento ho detto una minchiata di Roma l'inter perché se la Roma arriva a vincere questa partita si agguanta la Juventus ecco mi sono applicato un po' anche agli spettini comunque è una partita anche un po' da Lautaro 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 efficace la copertura della difesa che si salva tanto di cappello anche per chi gioca in panchina Ibala mi hanno mi hanno di giocatori eh Cone Ibala qua sarà delle magie spettacolari io già me la vedo l'ha seduto sul divano a gustarmi la mia live cioè Marco Sturam Bala col contagiri e Sarau Paredes Bisilli che è in forma So Murdo segna Lautaro è normale Le Frecche è leggermente un po' debolino loro invece ci hanno Taremi ha avuto Varella che è fuori hanno fuori Varella voi pensate ha messo frattesi perché è in forma visto in nazionale no ma tanto di cappello comunque questa partita non so cosa io metterei gol perché la Roma comunque non è da tanti gol una contrasto all'altra ci saranno un sacco di falli un sacco di gialli un sacco di gialli c'è il leak sanno per esaurirsi i primi 45 obiettivo rimonta tutt'altro che impossibile per la squadra di casa qua tuttavia comunque sarà una bella partita spettacolare non è nulla soprattutto con la squadra che si ritrovano per trovare il pareggio basta un episodio la giocata di un singolo piuttosto devono fare attenzione a non prenderne altri perché dopo si conflicherebbero troppo la vita è una partita da mille e una notte Turam avanti della sua azione Lautaro Martinez si avventa sul pallone e ferma tutto intercetta il traversone devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio se è sempre lì la partita del aumentare un vantaggio di Lautaro ci può anche stare capito eh io scrivetemelo qua sotto nei commenti come l'ha pensato voi è un bel risultato uuuu cosa gli ha tirato via si chiude qui il primo tempo eccolo lì eh Sommer ah no Svillard Sommer se l'Inter va in vantaggio allora secondo me se l'Inter rimane sullo 0-0 del primo tempo il secondo tempo è spettacolare che sono convinto che Inzaghi andrà a mettere Varela che deve difendere e pagare aumentare i vantaggi eh ma marcerà tanto mette il corpo per tenere lontano l'avversario toglierebbe Martinez non credo i due attaccanti toglierebbe Lautaro metterebbe dentro un altro potente se no c'è la No Group si posa avanti metterà eh tre tanto di cappello anche la Roma comunque Juric ha il suo il suo da farsi il suo perché e secondo me punizione ha la No Group Carlo Augusto Carlo Augusto Carlo Augusto uoooooooooo ha calciato davvero bene la palla è sfilata più niente sul fondo non è entrata la palla nuova nuovo possesso Inter marcos cura poter c'è l'interessante Correa lascia partire il tiro una parata incredibile boh ma anche qua il tecnico ha deciso questo cambio vedi e Sarawian sulle piazzata bene anche la Roma non so se mettere gol o mettere X batte lungo ho paura che anche quell'X lì chiuso fisso Zilinski è una partita da da difesa e d'attacco chi la vince di più chi la vince di più chi la vince di più Paolo Di Bala chi la vince di più chi la vince in campo qua ha portato a casa veramente i tre punti nonostante tutto dopo aver visto il Napoli, la Juventus, la Lazio, il Milan che sta dietro, il Torino questa partita è andrà, io ti nomino questi giocatori qua perché sono quelli più vicino quelli più vicino ai punti sono tutti lì Napoli è il rispetto avete visto il gol di pareggio di Di Bala e potrebbe essere tra un Di Bala che mi segna un cristante che può segnare guarda come l'ha colpita bene qui è è uscita fuori una conclusione secca potente che può segnare cioè hanno queste potenzialità beh potenzialità hanno dei numeri questi giocatori qua i numeri da capogiro ho paura che è una partita anche da gol siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1 a 1 l'Inter secondo me non sbaglierà sono proprio sicuro l'Inter avrà la capacità di giocarsela a 100% sarà una macchina contro qua c'è gente che corre l'Inter ha gente che corre l'Inter ha gente che ha ai polmoni ottimo intervento in area ma anche loro non scherzano eh anche loro nonostante tutto quando vanno a giocare in campo con le altre squadrette anche se la Roma ha perso in conference non vuol dire niente che andranno a riscattare la partita d'Europa League qua tutto lo sfogo occhio perché ci sarà una sostituzione in un campo che la Roma tra la tifoseria dell'Inter ci andrà a perdere l'Inter intanto anche Bizec c'è c'è il tocco corto si accentra qui di balla ho paura che quelli che si giocano all'1 fisso meritano meritano perché potrebbe essere anche una partita da 1 fisso che Juric la vince su Inzaghi c'è il leak o c'è anche la capacità di Marenes di trovarsi di balla e il pallone finisce in rete pazzesca hanno trovato il vantaggio a poco dal novantesimo gara che non finisce di stupirci non ci credo Dibala Dibala non ce n'è per nessuno a Zerbi aveva spazio per calciare in porta non se ne fassero di Petri due volte a Zerbi un ottimo difensore non dico Di Mona l'Inter ce l'ha ce l'ha questi numeri ma se Dibala fa questi giretti qua che fa sempre capolavoro bisogna segagli le gambe vuol dire tante ammunizioni e tante eh tanti falli ci sarà anche un cartellino rosso questa partita qua segnatevi cartellino rosso provano il vantaggio il segno al match non c'era meno gelata per gli avversari provano ancora i giocatori dell'Inter a caccia del gol del pari non so di chi si tirano fuori da una situazione complicata qui per fermare Dibala lo devi stendere due volte Barella non è che voglio fare numeri da capogiro eh numeri che rimangono e questi sono tre punti che valgono oro hanno trovato il gol partita è difficile scegliere è difficile scegliere 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 la possibilità di avere una doppietta messa segno e non penso che Cristante giocherebbe su Dibala due uomini su Dibala tipo Ndk e Cristante che lo marcano è molto difficile cioè scusatemi gli stessi due giocatori una Cerbi e un chiedo scusa aspettate un attimo perché non avevo sotto gli occhi la classifica la formazione e qua comunque mi mangio le mani mangio le mani su questa partita ragazzi gol l'uno a uno ci può stare tutto pulito poi chi la va a vincere è meglio non è una partita da zero a zero me lo auguro me lo auguro io andrò a selezionare un altro gol qua perché o la vince la Roma o la vince l'Inter io qua il gol si sta e qua io vi saluto alla prossima partita ciao 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 Grazie a tutti.